I goliardi delle serali in questa nebbia hanno voglia di scherzare non è ancora mezzanotte e sono appena usciti da scuola le cose nuove e belle che ho appreso quest'anno è l'ultimo tema da fare ma loro non si danno pensiero vogliono sempre scherzare perché il vigile non interviene che cosa ci sta a fare è vero però che le voci sono fiocche diverse querule anche nel riso o gravi o incerte in formazione e in trasformazione dieci disparate discordi in stridente contrasto accomunate senza ragione senza necessità senza giustificazione ma come per il buio e il neon è la nebbia che abbraccia affratella, assorbe, inghiotte e fa il minestrone e loro ci sguazzano dentro sguagliati e contenti io attesto il miglior portamento dei due allievi sergenti il calvo inispecie che se capisce poco ha una forza di volontà militare e forse ha già preso il filobus quanta pienezza di vita e ricchezza di esperienze di giorno il lavoro la scuola di sera di notte schiamazzi chissà due lingue vive due vite di giorno il lavoro la scuola di sera non tutti la notte però fanno i compiti e non imparano le poesie a memoria di notte preferiscono fare schiamazzi nascondere il righello a una compagna e non fanno i compiti ma non c'è nessuno che vigila scuola sono avari tutti avari di già e sanno che costa denari denari e Grazie a tutti